La famiglia in cammino, un'immagine simbolica che testimonia il desiderio di andare avanti nonostante le difficoltà e nell'affidamento a Maria. Così questa mattina in piazza San Lorenzo a Genova si è aperto il 14esimo pellegrinaggio nazionale per la famiglia, promosso dall'ufficio nazionale per la pastorale familiare della CEI, dal forum delle associazioni familiari e dal rinnovamento nello spirito santo. E' nato 14 anni fa, è stato fatto a livello nazionale dal rinnovamento, di solito veniva fatto a Pompei dove da tutte le regioni i gruppi del rinnovamento partecipavano a questo pellegrinaggio. L'evento ha riguardato 19 regioni italiane più una regione svizzera e si colloca nel cammino di avvicinamento all'incontro mondiale delle famiglie con il Papa a Roma il 26 giugno 2022. Ha la caratteristica di riunire tre generazioni, i nonni, i figli e i genitori, che sono tutti uniti. In che cosa? In un cammino di preghiera che è testimonianza cristiana ed è caratterizzato soprattutto dalla presenza di Maria, perché noi attraverseremo le strade del centro storico di Genova pregando il rosario per la famiglia. E quindi in questo modo vogliamo raggiungere anche tutte quelle famiglie che sono particolarmente nella sofferenza, nella difficoltà, ferite, forse anche lontane, tante volte nella maggior parte dei casi, al giorno di oggi dalla fede. Per i partecipanti è un'occasione di ripartenza dopo i mesi di chiusura dettati dalla pandemia, ma anche un modo per affermare il valore della famiglia. È un momento di festa, è un momento per affidarci a Maria, per affidare le famiglie, i genitori, i nonni, i bambini e per dire ancora una volta che la famiglia è viva e viva la famiglia.